Sono ad un passo dalla ripartenza i lavori per la Darsena di San Cataldo di cui vi abbiamo già ampiamente parlato. Finalmente sembra essersi sbloccata la situazione della Marina Leccese. Da anni oramai le alghe di Posidonia bloccano quello che è l'unico accesso alla rimessa delle barche che sono oramai arenate all'interno del porto. Una condizione che rende impossibile l'attività della pesca, fonte di reddito per molte famiglie che nella Marina Leccese hanno scelto di risiedere e di fare la base per la propria attività lavorativa. Ad oggi manca solo l'analisi di compatibilità delle alghe che bloccano l'accesso al porticciolo che dovrebbero essere riposizionate a circa un miglio dalla costa. Marzo potrebbe essere il mese giusto per l'avvio dei lavori e riportare a nuova vita il porto di San Cataldo e permettere alla Marina Leccese di avere una nuova possibilità di sviluppo e anche turistica.